vediamo chi è pronto pronto è capito che siete dal cantiere come siamo combinati noi siamo combinati benissimo stavamo ascoltando e lo dì lei è stato mangiando ancora le 12 un minuto sono noi ora fra 29 minuti mangiamo a menza lo so lo so a menza come è gioco signor la rosa tutto a posto piove a dirotto ma è tutto a posto piove 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 a dirotto a dirotto sta il governo noi siamo a posto noi non siamo a dirotto noi siamo a giarre provincia di catania e allora quando si dice che piove a dirotto vuol dire che piove forte in continuazione con grande intensità a proposito ci volevo dire una cosa signor la rosa l'invenzione più importante del mondo è un cofino un cofino perché uno può fare un cofino due cose ha capito certo il cofino un cofino è un sicchietto il contenitore per noi altri abbiamo un imbastato per dire la cucina e per portare il cimento è utilissimo magari per l'insalata signor la rosa noi altri ci facciamo l'insalata certo lavamo bello poleto perciò prima ci ha impastato il cimento e poi gli mettete l'insalata e mi che che è strano è un po' sì ma quando che gli ha lavato poleto scusi lei che ci trovate male è lavato l'importante che voi lo laviate il pozzoliano ci tieni e poletono sapete lo so e tu rasca camanicola e poi insalata armeramo camanicola ma non con la forchetta ma quando mai uno con la questa forchetta caman c'è ne vabbè un'altra mangiamo per saccare cose che gli aveva chiede di chimici ha capito il suo piano aveva il rambino tedesco che lo azzecca più meglio certo il rambino tedesco è più largo e poi camanicola siccome io non rendevo preciso mettiamo in che staccio fu l'epo della moto che buttava la pammigiana e per tutte pare e allora va a fare la pozione precisa giusto sa appoggia manicola su sopra gli stati che ha formato manicola signor la rosa e ci posso assicurare che non troviamo un millimetro in più io non troviamo un millimetro in meno quindi non è una porzione di parmigiana è una manicola di parmigiana una manicolata esattamente è una manicolata ma non è una manicolata una parmigiana non ci posso credere comunque segnala rosa noi stiamo ascoltando ogni anno vuol dire una canzone per noi ce la potessi mettere ma lei chieda e noi arriviamo subito per soddisfare questo mi dispiace che è successo la cascava una parete signor la rosa una parete abbattivo una parete e come mai che come è successo durante il lavoro utilizza gli zoccoli e io scappone chiede di sicurezza con ferro non ne può bussare ma perché scappi più picchiavi ci putti in dei peri insomma grazie a dio è un poietto rosso da peri cipurta ma capito come si chiama come si chiama il pollice l'acqua come si chiama il pollice l'alluce valgo valgo vai cipurta andò dietro signor la rosa tuttora la chiamare una vostra maniera ma è semplice putta la chiami come vuole ma se la possano una cosa le hanno la buona buona chissà cipurta di giara dara anche è proprio catalogata vabbè io ci posso dire perché ne capisci vabbè che io ho trovato il zoccoli no ora se come stamattina cavo aiuto magari ah ho capito putte zoccoli che sono spattati che io quando cammina via questo vizio che è frescina e caccagni no si 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 mi ha fatto un sgruscio dei zoccoli trutututu 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 che si spattano e certo se ci spattava la gomma messo il piede in fallo e ho detto bene ha messo il piede in fallo quando non la correggo bravo anche i film serve ha messo un piede in fallo quello è quello è quello è quello è che ha dato un muro e signor la rosa il muro bello frisco frisco l'avevo fatto l'anno fa già con l'attestata passa e petta che andò al 74 quando si abitava il piscio l'avevo presenti tutt'era a londra anche il saggio comunque abitava un muro un terra io ora l'avo a fare una vostra vuota di nuovo ma cosa bello sai per chi è che il Filippo non si fai niente che qua si rimbalziava la testa e chi ho durato il muro durissimo avanti staccamo sta molazza che va a mangiare stoiano forza Melino arrivederci amico mio ciao